Buon ferragosto a tutti i nostri ascoltatori. Qui a Radio Fuggino NER continuiamo a tenervi aggiornati anche durante le festività. Oggi ci concentriamo su una notizia dell'ultima ora che sta causando disagi e preoccupazioni. Proprio in questo momento l'attività dell'Etna che ancora una volta impatta sull'operatività dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa. L'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa, non è nuovo ad eruzioni spettacolari e attività sismica. Questa volta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un'intensificazione dell'attività stromboliana, in particolare al cratere Voragine. Questo tipo di attività vulcanica, caratterizzata da esplosioni intermittenti di lava e gas, è sempre spettacolare ma può anche creare non pochi problemi, soprattutto quando coinvolge le aree circostanti e le infrastrutture vitali come l'aeroporto. A causa di questa intensificazione l'unità di crisi dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa ha deciso di chiudere il settore B2 dello spazio aereo, riducendo gli arrivi a soli 5 voli all'ora fino alle ore 9 di domani mattina. Questo provvedimento è stato preso per garantire la sicurezza dei voli e dei passeggeri, evitando il rischio che i veivoli possano essere danneggiati dalla cenere vulcanica emessa durante le eruzioni. La cenere vulcanica infatti rappresenta una minaccia significativa per l'aviazione. Quando viene aspirata nei motori degli aerei può causare danni gravi fino al blocco completo dei motori stessi. Inoltre la cenere riduce drasticamente la visibilità, creando ulteriori pericoli durante il decollo e l'atterraggio. La SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, ha invitato tutti i passeggeri a controllare lo stato dei propri voli. Dato che la situazione è in continua evoluzione, potrebbero verificarsi ritardi o cancellazioni. La situazione di incertezza ha messo in difficoltà molti viaggiatori, specialmente in un periodo di forte affluenza come quello del giorno di Ferragosto. È consigliabile per chiunque debba partire o atterrare a Catania nelle prossime ore tenere d'occhio molto bene le comunicazioni ufficiali dell'aeroporto e delle compagnie aeree. Le decisioni potrebbero cambiare rapidamente a seconda dell'evoluzione di questa nuova attività vulcanica. Secondo quanto riportato dall'INGV, l'attività vulcanica dell'Etna negli ultimi giorni è stata in costante crescita. Il tremore vulcanico, un indicatore dell'attività interna del vulcano, è passato da valori bassi a medi fino a raggiungere valori alti nelle ultime ore. Le sorgenti di questo tremore sono state localizzate ad est della voragine a circa 3.000 metri di quota. Questo tipo di monitoraggio è cruciale per prevedere possibili eruzioni o altri fenomeni pericolosi per prendere le misure necessarie per proteggere le persone e le infrastrutture. Una delle conseguenze più temute delle eruzioni dell'Etna è la pioggia di cenere. Nelle recenti eruzioni la cenere vulcanica ha ricoperto molti paesi attorno al vulcano, creando non solo problemi di visibilità e respiratori, ma anche gravi disagi per la vita quotidiana. Le strade, le auto e le abitazioni possono essere letteralmente sommerse dalla cenere, rendendo necessari interventi di pulizia massicci. Mentre l'Etna continua a far sentire la sua presenza, è fondamentale che tutti coloro che si trovano nelle aree interessate o che devono viaggiare seguano le indicazioni delle autorità. La situazione potrebbe evolversi rapidamente e la sicurezza deve essere sempre la priorità. Invitiamo quindi tutti i nostri ascoltatori a prestare attenzione agli aggiornamenti e a rimanere informati sulle condizioni sia meteorologiche che vulcaniche. Radio Puggino NER continuerà a monitorare la situazione e vi terrà aggiornati in tempo reale. Grazie per essere stati con noi e auguriamo a tutti un feragosto sicuro e sereno.